ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono sempre io matti il biondo iscrivetevi a questo canale è stata la campanella come sta andando il napoli allora faccio un po il bilancio di queste prime partite questo è un po un bilancio per vedere un po come sta andando secondo me per un mio punto di vista sta andando molto bene tranne le prime due partite contro fiorentina e juventus perché già ne abbiamo parlate non voglio ritornare sull'argomento perché andiamo sempre a finire sull'argomento dell'autocoll di culibali però voglio fare un riso conto di queste di queste quattro partite del napoli tra tra serie a e champions devo dire la verità in serie a noi abbiamo fatto benissimo abbiamo subito 7 gol e ne abbiamo fatti 9 cosa da proprio da niente perché subire 7 gol e parecchio ma anche fare 9 gol e parecchio quindi non ci lamentiamo perché la cosa bellissima poi champions league ieri ne abbiamo fatti due in champions league e come bilancio mi va bene mi sta tutto perché veramente è un bilancio un ruolo buono perché perché se noi andiamo a vedere noi in champions di solito la prima partita falliamo sempre e quindi questo è un piccolo bilancio perché perché fra poco arriveranno cioè fra poco faremo il video molto importante un video importantissimo perché questo è un piccolo bilancio tra serie a e champions di queste quattro partite quattro partite molto belle molto molto pimpanti 243 22 a 0 cioè 22 a 0 quindi il napoli per me è porta spettacolo perché già si vede dalle idee dalle idee dei giocatori perché una cosa bellissima quattro partite bellissime oserei dire due perché le altre due non me le voglio ricordare con fiorentina e appunto contro contro la fiorentina abbiamo giocato malissimo se non era per se non era per per fortuna a questa ora era una sola partita veramente grande iscrivetevi al canale e attivate la manella forza napoli ciao